Noi siamo in una discriminazione al contrario, qui sono state mandate via 20 famiglie che si erano integrate sul territorio e abbiamo un sindaco che nei primi sei mesi della sua consigliatura ha investito il 596% per Roma e immigrati e ha tolto disabili e minori. Ci facciamo un sacco di domande qui su questo territorio che è lasciato assolutamente in balia di una malsana amministrazione che ci ha lasciato da soli e a condividere.